Continuano le ricerche dei quattro operai dispersi dopo l'esplosione nella centrale elettrica di Bargi, sul lago di Suviana. Nell'incidente sono morte altre tre persone e cinque sono rimaste ferite. Oltre cento i soccorritori impegnati nelle ricerche. Il livello del lago è stato abbassato per consentire ai vigili del fuoco di perlustrare l'aria colpita dall'esplosione. Per la giornata di giovedì i sindacati hanno organizzato uno sciopero contro le morti bianche. Morire sul lavoro non è accettabile in un paese civile, ha detto il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini.